Dopo alle tante virtual room imposte dal Covid, la Prefettura di Ancona e la Regione hanno voluto un convegno in presenza con tutti i sindaci della provincia per un focus sulla gestione integrata delle situazioni emergenziali. Un incontro istituzionale, ma anche un'occasione per gli amministratori locali di conoscersi e confrontarsi con la Direzione della Protezione Civile e il Comando Provinciale di Vigili del Fuoco su temi essenziali. La messaggistica d'allertamento, una consapevolezza sui suoi contenuti, le competenze legate a tutti gli organi che intervengono durante un'emergenza. Una sorta di corso di aggiornamento con cadenza necessariamente periodica, anche tenuto conto del normale avvicendamento in tutti i livelli degli incarichi istituzionali. Oggi ci siamo incontrati, abbiamo visto che ci sono oltre a delle funzioni, ci sono delle persone. Queste persone si sono messe a disposizione del sistema dei sindaci che sono l'ossatura fondamentale della nostra provincia. Illustrati nel dettaglio anche i piani della protezione civile che tengono conto dell'anagrafe delle persone fragili, come soccorrere e mettere al riparo anziani, persone con disabilità o altre fragilità. Sanno dove sono, dove risiedono e come dobbiamo intervenire e addirittura i punti d'accoglienza si costruiscono pensando a questo tipo di situazioni. Credo che questa qui sia un'ulteriore evoluzione della risposta nei casi di emergenza.